eros ramazzotti e dalila gelsomino rispettivamente 60 e 35 anni non sono più una coppia dopo settimane di voci su una loro presunta rottura arriva finalmente la conferma da parte della diretta interessata che ha deciso di rompere il silenzio attraverso il suo account instagram la donna profondamente ferita dall'epilogo non felice della loro storia d'amore ha spiegato pubblicamente cosa c'è dietro alla fine della relazione alcuni passaggi del suo sfogo sono particolarmente duri con pesanti critiche rivolte all'ex compagno dal suo discorso si evince che la separazione non è stata affrontata in modo pacifico sono stati mesi di grande dolore e di silenzio interminabile dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo ha dichiarato la gelsomino ha poi aggiunto di aver deciso di parlare pubblicamente per fare chiarezza una volta per tutte sulla sua vita sentimentale io ed eros non eravamo più felici insieme ha continuato spiegando di aver tentato di tutto per salvare la relazione senza successo la gelsomino ha anche rivelato di non concederà altre interviste e di voler mantenere una certa distanza dai media non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti della stampa rosa definendo difficile dover fronteggiare le chiacchiere e i pettegolezzi ha concluso dicendo che la sua relazione con eros è stata una grande lezione di vita e che non ha mai cercato dinamiche superficiali ma un amore puro e autentico nonostante ciò non ha dedicato alcuna parola dolce all'ex compagno lasciando trasparire un grazie a tutti